se poco poco mi conosci sai che spesso dico una secondo me grande verità cioè che non serve investire chissà quanti soldi per iniziare a fare podcast spesso volentieri mi trovo a dire che basta anche il telefono il cellulare proprio il microfono e cellulare va benissimo per iniziare poi certo si migliora si si acquisisce più confidenza col mezzo con se stesse poi anche e perché no a un certo momento si possono comprare degli ottimi microfoni più avanti nel tempo però quando dico che si può iniziare con microfoni di basso costo ma di buona qualità io ho sempre in mente un esempio che adesso andremo a sentire proprio andiamo a provare e cercherò di dimostrare come non serve appunto ipotecarsi la casa della nonna per iniziare a fare un podcast sono matteo scandolin questo è il mio canale in cui cerco di spiegare e raccontare come fare podcast raccontando tutti gli errori che ho fatto che ho fatto io cercando di travestirli da buoni consigli quello dell'acquisto di materiale eccessivamente costoso per fortuna non è un errore che io ho mai fatto perché ho iniziato veramente con abbastanza poco però spesso e volentieri si vedono almeno le persone che si rivolgono a me per iniziare a fare un podcast ogni tanto se ne escono con delle cifre o con dei budget che io gli dico anche sì se vuoi spenderli se ti fa stare bene spendere se te lo puoi permettere senza avere problemi di natura finanziaria o economica o quello che è più avanti stai tranquilla spendili pure però se no si può iniziare veramente con poco appunto io dico sempre inizia col telefono perché se non hai mai fatto podcast se non hai mai adesso dico una parolaccia molto brutta se non hai mai prodotto contenuti in maniera continuativa soprattutto è inutile spendere dei soldi per una cosa che poi c'hai lì non userai mai più ha più senso invece iniziare vedere bagnarsi i piedi iniziare a capire se ci piace quello che stiamo facendo eventualmente poi effettivamente investire ora ci sono microfoni per tutte le tasche costosissimi da migliaia di euro che per fare podcast onestamente non credo proprio che servano e soprattutto sono pensati per il canto quindi per catturare bene alcune frequenze alcune performance di cantanti che non c'entrano niente con la gente che parla a un microfono in maniera naturale come normalmente succede per noi che facciamo podcast adesso facciamo una prova col beringer xm 8500 x 8500 scusami che non so adesso andiamo a vedere quanto viene sull'amico toman sito meraviglioso tedesco beringer x 8500 vediamo se ho beccato magari non si chiama anche se xm 8500 ci avevo visto ecco su toman adesso lo trovo a 2250 è un classico microfono adesso aspetta gelato come si suole chiamare perché c'è effettivamente la forma di un cono gelato eccolo qui questo crocchio qui su amazon su toman lo paghi 22 euro e 50 però devi aggiungersi anche 15 euro di spedizione su amazon lo tiri via spesso volentieri sta sempre intorno ai 18 euro io gli ho messo una una spugnetta blu vediamo che l'autofocus aspettiamo che l'autofocus troppo vicino non lo so faccio il suo dovere è il microfono che io uso di riserva a milano se proprio dovessi averne bisogno e che poi è quello che ho comperato e tengo qui a mestra invece dove sono recluso causa mia la mia compagna milano che è positiva quindi non posso tornare a casa mia mi tocca rimanere con la mia mamma fino a data da definirsi ancora per cui non posso fare chissà che comparazioni in questo video aspetta tiriamolo fuori una bellissima bellinger tra l'altro collegato a una uforia una scheda audio bellinger che questa di poche decine di euro questo setup tra una cosa e un'altra ti viene fuori una sessantina di euro ci metti un cavo ci metti magari un'asta un'asta un pochino meglio di quella che tengo io ma era un'asta che avevo da una vita fa quindi ecco l'asta la dovrei comprare per mestre l'asta per mestre va bene questa roba qui con una sessantina di euro te la cavi ci sono comunque microfoni buoni anche a una sessantina di euro usb quindi volendo potrebbe essere una soluzione che quella però questa è una soluzione di base decisamente ottima il motivo per cui questo bellinger è un ottimo microfono è che un microfono dinamico quindi è un microfono che per la sua le sue caratteristiche tecniche funziona meglio dei microfoni condensatore che magari sono un pochino alcuni più economici magari trovi degli ottimi condensatori anche 40 50 euro molto versatili molto molto versatili che però per loro natura sono ci fanno un po di danno a noi che appunto registriamo i nostri podcast imposti che non sono trattati questa stanza per carità un sacco di libri c'è un tappeto un divano però c'è anche un grandissimo armadio davanti a me che è una superficie molto riflettente questo significa che ci sono un sacco di rifrazioni della mia voce e un microfono a condensatore le raccoglie tutte il microfono dinamico è molto bravo a registrare a catturare i suoni che ha davanti e molto meno bravo a catturare i suoni che ha dietro adesso faremo anche speravo che le moto scorregetta fossero una piaga che affliggesse solo milano invece le ritrovo anche a me a mestre magari è la stessa che mi sta seguendo un po come la nuvoletta dell'impiegato di fantozzi va bene lasciamo perdere io adesso sto parlando dal microfono a questo lavalier che ho anche toccato chiedo scusa da pochissimi soldi faremo farò farò così utilizzando i cam live che è il software al quale che sta registrando questo video gli farò prendere prima il così che possiate effettivamente sentire la differenza prima il suono di questo lavalier poi per comparazione e qua farò male a tutti quanti il microfono integrato del macbook che fa il suo dovere però non è certo il microfono migliore del mondo e poi per allietare allietare le nostre i nostri timpani anche questo bellinger ribadisco un bellinger da una ventina di euro andiamo a vedere un po come come funziona come si sente tutto quanto allora io adesso vi faccio o ti faccio non so ancora non ancora deciso se usare il singolare plurale non lo so va bene io hai sentito tutto questo tutta questa registrazione magari questo video da questo momento in avanti mettiti delle cuffie che non siano chissà che qualizzate che niente beats o cose del genere per sentire bene le differenze tra i diversi microfoni io adesso faccio uno switch faccio un cambio di microfono poi il video io non tocco l'audio io spero che il volume di questo video e tutto quanto magari lo vado a normalizzare cioè rendo più o meno allo stesso volume tutti i diversi passaggi ai diversi microfoni in maniera tale che sia più semplice percepire le differenze ma non andrò a equalizzare non andrò a comprimere non andrò a fare niente questo è esattamente quello che quello che stai sentendo è esattamente quello che ho registrato ecco allora fino ad adesso c'era il lavalier questo qui che non mi ricordo onestamente neanche che marca sia ma ce ne sono a dozzine di così e questo invece è il microfono del macbook air che mi sta riprendendo adesso in questo momento come senti io adesso devo parlargli chiedo scusa perché la camera è qua e adesso facciamo un cambio di inquadratura così sarà anche peggiore ciao ecco adesso mi senti col microfono che sta davanti a me a più o meno quanto siamo 70 80 centimetri più o meno 50 sicuri 60 di sicuro 60 80 centimetri davanti a me è il microfono del macbook air e questa è la qualità del microfono del macbook air torniamo alla camera bella e adesso ci mettiamo se non ho sbagliato sì se non ho sbagliato ecco questo è il volume del aspetta un attimo perché non so mai questo è il volume del del behringer xm 8500 devo stare un pochino perché devo stare abbastanza vicino al microfono perché non insomma per non creargli dei problemi l'asta fa schifo motivo per il quale sono tutto chino però il risultato spero si senta all'interno delle tue cuffiette perché ti ricordo di sentire attraverso le cuffiette è un microfono che fa il suo dovere magari a chi ha un orecchio molto fine oppure chi è del settore può riconoscere che ne so che i microfoni dinamici sono tendenzialmente un pochino scuri come come si dice come come colore del loro suono è un pochino scuro un pochino chiuso non non niente di eccessivo ovviamente i microfoni condensatori sono tendenzialmente poi c'è ogni microfono è diverso e ogni microfono risponde diversamente alla tua voce quindi purtroppo ne dovrai magari se fosse possibile dovresti provarne un po i microfoni a condensatore invece sono un pochino più brillanti e questo permette loro di riprendere la voce nella maniera più vicina possibile alla voce reale questo microfono condensatore senza troppe pretese costa il giusto che deve costare fa decisamente il suo lavoro e in questo momento io penso che tu stia sentendo una buona registrazione con la scheda audio sono un po meno di tre quarti i microfoni a condensatore hanno bisogno di meno volume ma perché semplicemente c'è il phantom power cioè il vengono elettrificati adesso sto dicendo delle bestialità ma per capirci hanno bisogno di più corrente fondamentalmente per per registrare i microfoni dinamici tendenzialmente no ma hanno bisogno di essere tirati un pochino più a cannone questo momento sono un pochino meno di tre quarti sono secondo me è un volume dignitoso e questo è fine questo è un microfono cioè questa è la fine questo microfono sensato costa abbastanza poco fa il suo dovere lo fa bene ed è un microfono che per emergenza io mi tengo sempre volentieri addirittura appunto fa parte della strumentazione che tengo qui a mestre a milano c'ho della roba sicuramente più raffinata e più anche più costosa ma la strumentazione professionale non è che per forza di cose non è che è migliore in al cento per cento in tutte le diverse possibilità è che ti aiuta molto a risparmiare tempo dopo ti permette di registrare subito bene mentre invece magari qua hai bisogno di essere un pochino più più tranquillo più aiutato più non lo so non in questo caso tutto sommato però la grande differenza tra la strumentazione professionale quella amatoriale perché tutto sommato una roba da 20 euro non è certo una cosa professionale come concetto e che appunto ti fa risparmiare tempo dopo in post produzione e ti aiuta tantissimo in tantissimi diversi modi questo Behringer è un ottimo primo passo diciamo per il mondo dei microfoni ovviamente è un microfono xlr quindi va attaccato a una scheda audio io adesso faccio uno switch di microfoni teoricamente sto parlando da dal lavalier perfetto è un microfono xlr quindi ha bisogno di un cavo xlr da attaccare a una scheda audio o a un mixer digitale che tu abbia a disposizione e mi immagino tra l'altro si senta molto la differenza in questo momento parlando al microfono lavalier e basta in realtà era una cosa che mi sarebbe piaciuto farti una comparazione tra questo microfono e quello che uso abitualmente a Milano che è il Presonus PD70 che è un microfono di cui io mi sono innamorato però è a Milano appunto quindi non posso fare granché basta ti ringrazio per aver ascoltato questa e visto scusami questo video trovi il link in descrizione per acquistare il microfono sia il microfono che la scheda audio ti interessasse c'è il link affiliato mio di Amazon e boh vai su scandal.in per trovare più informazioni su di me se vuoi c'è anche addirittura un corso matterello mattarello pazzerello di podcast che tengo tutte le settimane che potresti pensare di regalarti per iniziare il 2022 in maniera scoppiettante poi ci sono un sacco di informazioni un sacco di contenuti utili per per migliorare le proprie competenze per il podcast e almeno una volta al mese ci troviamo tutti noi che io e tutte le persone che partecipano al corso e ci facciamo una chiacchierata mensile domani tra l'altro a quella di questo mese e poi mi hai a disposizione per un sacco di domande tecniche che magari ti possono venire in mente per il resto ciao voglieti bene stai attenta che non è proprio bellissimo fuori però usciremo anche da questo casino ciao grazie grazie